La fiera è la fiera EOS che parla di sostenibilità ambientale e di turismo green. Il turismo green è un segmento in grande crescita, è un segmento turistico di grande interesse che noi stiamo valutando, tanto è vero che abbiamo previsto la creazione di un portale verticale dedicato al mondo della natura, quindi a tutte le varie possibilità di praticare il turismo green, dai parchi al birdwatching, ai trekking e quant'altro, per permettere agli appassionati che sono sempre di più di entrare in un ambiente dove trovano soltanto informazioni che sono relative a quella che è la propria passione e permettere a noi poi di posizionarci meglio sui motori di ricerca e anche di segmentare meglio la propria commercializzazione sui canali dedicati, che possono essere online o offline. Per quanto riguarda il discorso invece del prodotto green, la regione si sta attrezzando, nel senso che ci sono i primi tentativi da parte delle strutture ricettive e non di andare in quella direzione che è la direzione del futuro, noi stiamo cercando di studiare un disciplinare per identificare un club di prodotto che realmente identifichi le strutture che vanno in quella direzione e quindi ci possa permettere di lavorare con loro in una maniera migliore. Anche perché qui si parla di greenwashing, che è una caratteristica che riguarda non solo il green ma tanti altri settori, cioè ci sono molti professionisti che sono pagati per dare un contenuto diverso a cose che quel contenuto non hanno, quindi ci sono molte strutture che si qualificano come green e che in realtà non lo sono, in cui è molto importante dare spazio a quelle esperienze e a quei contenuti che sono realmente green.